Buongiorno a tutti, si comincia con i colori del nostro spezzatino, patate, piselli e pomodorini. Il sole c'è ma lo spezzatino non è pronto, a dimostrazione del fatto che per cuocere un ottimo spezzatino ci vuole parecchio tempo di cottura. Signori, noi siamo pronti. Gran bel banco stamattina. Grazie. 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 Grazie.